Salve a tutti bonzi e bonzi, benvenuti e benvenute in un nuovo episodio dell'Isola Volante, finalmente! Come potrete sentire la mia voce sono leggermente scosso perché è successa una cosa un po' terribile E per un po' terribile non intendo che sono nati tutti gli animaletti di qua ma intendo che sono caduto di sotto Mentre stavo a costruire quella cosa là, sono caduto sotto e cosa è successo quando sono caduto sotto? Grazie al cielo... Niente! Abbiamo scoperto, anzi ho scoperto, mi dispiace per voi che non c'eravate Cosa succede quando si cade sotto? Quando si cade sotto non succede niente Si cade sotto, si ricade qua Cioè io sono caduto sotto tipo qua, sono ricaduto qua Splaft, così Niente di più, niente di meno Ti fai solo tanto male perché tipo ti lascia con mezzo cuore Però voglio far vedere che cosa stiamo combinando qui Sto facendo un piano inferiore qua sotto perché ci voglio fare lo storage network E voi direte, ma metto il mafio? Però beh La vostra è un'ottima domanda cari miei Lo storage... ecco così so caduto, ho messo un coso di più così e so caduto di sotto Lo storage network non è nient'altro che Quella cosa magica che sicuramente avrete visto In altri video, in altri modpack e tutto Che con un telecomandino ti fa avere tutto quello che vuoi Tutto quello che vuoi Tutti i blocchi, tutti i blocchetti, tutti i blocchini Bla 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 Però io lo voglio fare qua sotto ai nostri alberelli Perché? È semplice in realtà Perché le nostre risorse maggiori derivano dagli alberelli E qua sopra abbiamo tutta la cosa automatica degli alberelli Quindi rendendo lo spazio nel quale si ammassano le cose degli alberelli pressoché illimitato Non facciamo nient'altro che Rende tutto quello che sta qua su illimitato E illimitato è tanto perché è accessibile soprattutto Illimitato è accessibile Non dobbiamo andare a vedere quale albero è, quale alberello non è, di qua e di là Meglio farvi vedere cosa intendo Voglio vedere che ci sta qua sotto Dovrebbe accadipo Ok no, è qui Ok, è qui che devo spaccare Allora Voglio provare prima una cosa Prima una cosa molto simpatica Voilà No, metti questo, metti questo Così qua là Mi servono hopper però Mi servono hopper, veloce Mi servono workbench Poi vi spiego le cose che ho nell'inventario Che roba sono Mo ve le spiego Allora, workbench la mettiamo qui Ah, mi devo ricordare che qua sopra non ci posso stare lì Perché stanno gli irrigatori Mi faccio male Allora, mi serve un hopper Facciamo due di questi Voilà Tic toc, tac, tic Toc Ecco l'hopper, perfetto Cioè, no, volevo dire Ecco l'hopper Voilà Ok, ora l'hopper io lo voglio mettere Qui sotto Così Ok E qui ci voglio mettere un filing cabinet Cos'è un filing cabinet? Vi faccio vedere Questo coso qua Che dobbiamo aprire con la mano vuota Lo apriamo con la mano vuota E dentro ci vanno messe delle Ehm Cartelle Cartelle, cartelline, cartellette, no? I cosi degli uffici, diciamo, no? Ora noi lo apriamo E io già mi sono preparato Le cartelle del Dell'alberello di Di dirt Tutte le cose tipo Resina di dirt Ghianda di dirt Legno E robe varie Noi le mettiamo così E vedete si sta riempiti Grazie al cielo funziona Grazie al cielo funziona Ci mettiamo pure le altre Stick Oakwood Acorn E resina Ok Ognuno di sti cosi può contene un massimo di 8 cartelle Però diciamo che per sti alberi Basta e avanzano Queste 5 Sono 5, sì Come vedete si sta riempiti Sta a funzionare Mo si trasporteranno giù tutte ste cose Spero Una alla volta Perché gli hopper Ci mettono la velocità che ci mettono Però vedete Il legno sta aumentando E aumenterà All'infinito E per l'infinito intendo Quell'infinito Quello che conosciamo tutti Il limitato Massimo Perché tipo ogni cartella riesce a contenere 100.000 passa oggetti Ora non dobbiamo fare nient'altro che Aprire tutto qua sotto Riempire tutto di hopper E fare La Cartella di ogni Singolo drop Che sta qua sopra Ma non vi preoccupate Non vi preoccupate Eh no qua Ho bucato di troppo Non vi preoccupate Perché queste sono cose Che non vi farò assorbire E io sono un Gentleman Youtuber E queste sono cose Che mi faccio Il conto mio Poi ho messo degli altri Em Dove li ho messi? Qua? Eccoli qua Ho messo degli altri Cosi qua Che per ora Sono vuoti Però ci serviranno Per altri Dovrei averli messi pure di qua Sì Però fino qui Ok Ci serviranno per altri Alberlli Perché Come sapete Non ce li abbiamo Ancora tutti Però Tempo al tempo Tempo al tempo Intanto noi abbiamo Ste cose Vedete Già si è riempito Di legno Di ghiande E tutto quanto Ma si riempie bene bene Oddio riempie no Perché non si riempirà mai Però L'altra cosa Che ci serve È Questo qua Questo lo vorrei mettere Tipo Così Qua non ce l'abbiamo Un centro perfetto Eh no Non ce l'abbiamo Vabbè non fa niente Mettiamo tipo Qui E lo mettiamo qua Questo È un Centro di comando Per lo storage È quello che se la comanda Insomma Questo È il coso Do richiederemo Le robe E E Ce n'avevo un altro Un controller Che Suppongo Metterò Qui Così Ok Se ci clicchiamo Ci dice le cose Che sono connesse Questo qua Non Beh L'importante è questo Questo possiamo pure togliere Ora Voilà Ora Con sto coso possiamo richiedere Ecco intanto inizio il backup Possiamo richiedere le cose che vogliamo Però le cose che vogliamo Le dobbiamo collegare A questo qua Se no Non possiamo richiedere Niente Come funziona? Stavoste ci vogliono questi storage cables Ci stanno diversi tipi Ora vi faccio Vedere Cercando At Simple Storage Ci stanno questi Cosi qua Questi capi qua Allora Noi dobbiamo Prima di tutto Farci Degli storage Link cables Abbastanza Sempliciotti Ne possiamo Fa uno Già adesso Lo facciamo Where is the Legno normale Lo facciamo Un'altra cestola Di ceste Ce ne serviranno un sacco Solo per fare gli hopper E lo facciamo così Magari se lo facessi dritto Ok C'è da 4 belli Questi qua servono per Tirare fuori Le cose E collegare gli inventari Vedete Collegare gli inventari Al network Poi 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 Penso che a noi per ora Ci bastino Questi qua Questi qua così Ci dovrebbero bastare Proviamo Tipo facciamo così No Però ci servono altri normali Che si fanno Con le stone slab E io le stone slab Le ho posate In una delle ceste Random qua sopra Che per ora Saranno random Ma Quando ci avremo Sto coso sistemato Più niente Sarà random Eccole qua Torniamo qua giù E vediamo Se il collegamento Funzia Si fanno così Uno due Uno due E due ferri Così 8 Dovrebbero bastare Per arrivare Al nostro Coso qua Scendiamo di uno No così Ok E veniamo Fino di qua Così Sta parato Si Voilà Voilà Ora se clicchiamo qua Togliamo questo Simple No Non ci dice Le cose che ci Eccole qua E' arrivato E' arrivato Ci dice tutte le cose Che stanno collegate Quindi così funziona Quindi non dobbiamo fare Nient'altro che Mette sti cosi qua sotto Fa la stessa cosa Dappertutto E poi ci avremo Tutto Tutte le risorse Che stanno qua sopra Finalmente collegate Qua sotto Devo mettere le torce Qua sotto Se no è la fine Comunque Queste cose Come vedete No Noi vogliamo degli stick Ne prendiamo 64 E ci mettiamo nell'inventario Da qua Anche se stanno là sopra Non ce ne frega niente Li vogliamo rimettere dentro Va bene Li rimettiamo dentro Nessun problema Ci abbiamo del legno Non lo vogliamo più Lo rimettiamo dentro Nessun problema Ne vogliamo l'altro No gli stick Vogliamo il legno Tiè Eccolo qua Oh Bellissimo Bellissimo Facile facile Fammi lo pigliare Un po' di legno Mi serve per fare un po' di hoppers Hoppers E voilà Facciamo direttamente le chest Così Che si possono fare Così Ce ne da 32 Però saliamo Perché voglio mettere Assolutamente delle torce Qua sotto Assolutamente Delle torce Ehm Ci abbiamo questo Carcoal Prendiamo questo Questa per ora La lasciamo Ancora come Quelle iniziali Mai toccate Brutte Sfatte E direi Che ci facciamo pure Un altro po' di questi Almeno Ehm 3 4 5 6 Ok Voilà Vediamo se ce ne possiamo fare altri tre Uno Due E tre precisi precisi Voilà Così se ci sei Ah è il pappagallo che fa verso gli zoom Questo non era il pappagallo però Questi sono zombie veri Ci sono degli zombie qua sotto Dov'è che sei? Creatura Vai sotto Eh mo che metto le torce Tu pure vai sotto Forza Dovete sponare qua Fatemi illuminare ben bene Ok Ah un'altra cosa che dobbiamo fare Prima di inserire tutte le nostre Gloriose cartelle Che cosa mi ha dato? A polvere della tomba Ok va bene Facciamo altri tre hopper così no? Giusto per farvi vedere Prima di inserire le nostre cose Direi che uno lo colleghiamo proprio al nostro albero di ferro Che dovrebbe essere questo E ci mettiamo il cabinetto E ci mettiamo il cabinetto Prima di renderlo operativo però dobbiamo rifilare il nostro cabinetto con le cose che ci servono Ovvero Ci dobbiamo Sta a mettere tutti Eh Dov'è che non devo fare sto danno Tutti i cosi qua così Prendiamo una resina Una dirtagorn Leva sto zippo Una foglia di ferro E riprendiamo sto legno E gli zippi già ce li abbiamo E dobbiamo fare lo stesso procedimento per riempire la cartella Però Fa ste cose Ti svuota lo spazio dell'imentario Quindi mettiamo sti due hopper al volo Li piazziamo così e così Ci mettiamo pure due gabinetti sotto va Tanto non si possono riempire questi se non ci sta niente Saliamo Qua Non sapre se non ci abbiamo niente in mano Me l'ho scordato E ora facciamo uno E legno E lo mettiamo qua Uno E iron resin E la mettiamo qua E ce le mettiamo dentro così Legno si sta riempire Iron resin Poi facciamo uno E lo zippo E lo mettiamo qui Uno E la ghianda E lo mettiamo qui Uno E la foglia E lo mettiamo qui E' un procedimento un po' Non tedioso Però Noioso Noioso è sicuro Ok Quindi pure questo ha i cinque Cartellini Ora se smettesse di Mettere solo il legno Magari se questa mettiamo al primo posto Inizia a calare Tutto sto legno Ci avremo un sacco di legno Qua dentro Ci avremo un sacco di legno Questo è poco Com'è sicuro E ora colleghiamo anche questa Al nostro network Così Poi dobbiamo scendere Con quelli Con quelli Vogliamo fare i nostri blocchi di ferro Li facciamo facilmente Facciamo facilmente Facciamo facilmente C'è però Un Ah Fatemi Anzi 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 Fatemi togliere questo qui E facciamo una cosa molto più bellina Facciamo che Questi cavi Li facciamo uscire da qui Così Così Si porta al centro qua Ed entra E poi scenderanno anche tutti gli altri da lì E poi li mettiamo pure tutti di qua Così facciamo una cosa bella Organizzata E simpatica Rimane una cosa da fare Per questo Diciamo per essere contenti No? E Rivediamo At Simple Storage Ed è questa qua Storage remote Dobbiamo fare Sti due cavi così Ci vuole un piston Ai 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 Un piston Ci abbiamo un ferro Ci abbiamo una redstone Ci serve della cobblestone E possiamo fare il pistons Un due tre E ci facciamo il pistone Non avevo visto E c'avevo altri 64 di ferro Ehm No Che tre mi serve più cobblestone Tre mi serve di legno Non mi ricordo come si fa un pistone vanilla Ariusirius Metal mavione Allora Legno Bene Mi serve anche del legno Mi serve anche del legno Questo è il problema Di avere l'inventario Sempre pieno Come una puzzola Un po' di tossa Allora Tot Poi Dove sta? Ehm Un ferro Prendiamo te Una redstone Prendiamo te E quattro legnetti Così Un pistone E ci facciamo col pistone Questi qua No Questo ci vuole hopper Porca miseria Questi qua Storage Export Quindi Piston E quattro cabletti Di questi qua Eccoli qua Quattro Così Poi Accrocchiamo un altro hopper Uno Uno Due Tre Quattro Cinque Voilà Leva questo E mettiamo un hopper E quattro cavetti Di questo Pure l'happer Dobbiamo fare Quello là Voilà Ora Sti due sotto Non è vero Sti due sotto Beh Mo li invertiamo Magari funziona lo stesso Così Ci serve dell'oro E al centro Un cavo Un cavo Un cavo Un cavo Eccolo qua E adesso Prendiamo quattro oro Che dovremmo Averli Questo non è quattro Questo è tre Andiamo a prendere Dell'oro Forse ce l'ho qua Nelle cests Oro Questo è ferro Ce lo prendiamo adesso Oro Oro Niente oro Oro Un due tre Quattro E possiamo prendere Questa gold resin Ce ne manca una Però quindi E' stato un po' inutile Fermarci lì Oro Cinque Bingo là Ora Ora facciamo Un'ambra Un ember E la facciamo Sciogliere Un due Tre Quattro Un due Tre Quattro Cinque Sei Vai Forza Smeltami Smeltami Sta cosa Ah C'abbiamo Del ferro Qua dentro Leviamolo Che sto a fare blocchi Come Un matto Mi sto a riempire I blocchi Dammi lo sformatino Di lingottino Si Volendo Si potrebbe fare Un bel lavoretto Con tutta sta roba E ti porta Tutti in automatico Non ho preso Gli altri lingotti Però Dammi le due Grazie E ora Mettiamo qui Così Voila Storage Remote E' un telecomando Telecomando Remote Lontano Questo vi dovrebbe Fa capire molte cose Noi andiamo qua Non funziona Se facciamo così Se facciamo così Invece Ce l'ha collegato qua E Io che ne so Adesso salgo Così no La 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 Vado qua Qua che c'ho Diciamo il centro Nevralgico Della nostra attività Clicco il tasto destro Cancello questo E c'ho tutto A disposizione Da questa distanza Voglio far il ferro Lo posso far qua Ci abbiamo già Mille di legno Tipo che ne so Voglio degli stick Eccoli qua Li voglio rimettere a posto Li rimetto Così non dobbiamo Più fa Avanti e indietro Finalmente E inoltre Vi farò vedere Se noi prendiamo Degli stick E facciamo tipo questo Aspè No aspè Facciamo Una cosa più semplice Tipo questa qua Possiamo craftare Direttamente da qua Con tutta la roba Che c'è Quindi Io non so voi Ma questo è Il paradiso Per Chi c'ha l'inventario Sempre pieno Chi c'ha l'inventario Sempre Sosfatto Tu arrivi No che ne so Fai ste cose Finito Metti qua Butti tutto dentro Facile Stavo pure a scrivere Delle schifezze Facile E tranquillo Non c'è nessun Coso Che ci può fermare Adesso Hai capito pecora Adesso Il mondo è nostro Devo solo Continuare a fare I cabinets Là sotto E si fanno Con una chest E le cose Le ringhiere di ferro Così Tic toc Tac Sedici Ne mettiamo Uno E due E ci facciamo Altri due Filling cabinets E questi invece Si fanno con la carta Messa ad L E così Quindi è abbastanza Semplice Da fare Diciamo che con le risorse Che abbiamo adesso Ci possiamo permettere Un bel po' di cose Per fortuna Però Mo che stiamo Così Che possiamo fare Tutto da lontano Questo è Proprio Cioè Io mo faccio così No E metto Questa così Per esempio E poi Queste qua Tac Faccio così E mi fa tutte le embers Che posso avere E rimetto tutto là E queste le metto qua A far ferro Voilà Direi che abbiamo finito Di fare ste robe E' molto bello E' molto bello E' molto comodo Sono contento Finirò di farla off camera Ovviamente Perché la staffa Tutte le cose Non ci vorrei stare Nemmeno io a guardarle Quindi direi che ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti